Voglio la Roma dei romanisti. Io non sono nessuno, sono uno in più. Sono uno in più che insieme a tanti loro all'interno del club, c'è tanti tanti tifosi per il mondo, sono uno in più, niente di più. Tu parli di titoli, noi parliamo di tempo, parliamo di lavoro, parliamo di progetto, parliamo di migliorare, i titoli arriveranno. Grazie.